Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, scalda i motori e in vista delle elezioni amministrative di maggio o domenica prossima presenterà il simbolo e il nome della coalizione. Avanti Polistena è il nome della lista e c'è da giurarci che nel simbolo non mancheranno la falcia e il martello. Sicuramente saranno quelli disegnati dal grande artista Renato Guttuso, ideati per il PC nel lontano 1953, con il tricolore seminascosto dalla storica bandiera rossa comunista. Il tutto sarà presentato in un hotel della cittadina pianigiana. L'occasione prende spunto dalla manifestazione avente per tema a ricostruire il partito comunista, unire la sinistra e ricominciamo da Polistena, promosso dalla locale sezione del partito Antonio Gramsci. La manifestazione sarà aperta alle 10.30 da Fabio Racobaldo, segretario della locale sezione, e da Fabio Russo, segretario della Federazione Giovanile Comunista di Polistena. Seguiranno gli interventi di Lorenzo Fasci, segretario provinciale, Michele Tripodi, sindaco di Polistena, e Michelangelo Tripodi, segretario regionale del PDC. La manifestazione sarà conclusa da Cesare Procaccini, segretario nazionale del Partito Comunista d'Italia. Avanti Polistena sarà, come nelle intenzioni del sindaco Tripodi, una lista prettamente politica. Dichiara estrazione di sinistra come ha dichiarato ai nostri microfoni qualche settimana fa.